Ad Ariane Irpino ci sono ancora cartelli che indicano il concerto di Gloria Gaynor nel 2005, lei che ne pensa? Quello ramai chiude un pensione, che c***o, che non vuol far più, scusa? Eh sì, in ben due punti della città ci sono ancora i cartelloni dell'assessorato provinciale al turismo che indicano il concerto di Gloria Gaynor nel 2005, insieme alla mappa della città e ad una serie di numeri utili, che utili non lo sono più, visto che a distanza di 13 anni evidentemente sono cambiati. Ma nessuno mai ha pensato di toglierli, di sostituirli. In questo periodo di afflusso di turisti una cartina aggiornata della città sarebbe davvero utile e di cartelli obsoleti ce ne sono diversi, come quelli dei cantieri. E' emblematico quello di Piazza Lusi, proprio di fronte alla villa, ormai scolorito e orrendo da vedersi con quei tubolari arrugginiti risalenti ai lavori del 2013. Ci sono poi cartelli stradali importantissimi, come quello in prossimità della Galleria Maddalena, che indica le direzioni Foggia, Riano e Rione San Pietro, non solo annerito dal tempo e dallo smog, ma anche coperto dalla vegetazione. Certo, ci sono anche i cartelli nuovi nuovi appena installati, che indicano cose belle ed edificanti, come il Museo della Ceramica ed il Polo Didattico e Scientifico. Un riordino generale non farebbe male, in collaborazione tra il Comune e la Provincia. La provincia, ad esempio, potrebbe finalmente provvedere ad installare qualche indicazione del centro per l'impiego, la cui esistenza in via Serra sulla Statale 90 è sconosciuta ai più, proprio perché non solo non c'è un cartello stradale, ma neanche una tabella davanti all'ingresso.